Buonasera, volevo ringraziare l'assessore alla sanità della regione Umbria per la sua precisione e puntualità. Volevo anche però ricordargli, così tanto per ridere, dato che il progetto che noi presenteremo tra qualche giorno costa tanti soldi, oltre 250-300 mila euro, che durante, quando è stato dato l'interesse pubblico al Comune, è stata convocata a una conferenza dei servizi. Nella conferenza dei servizi era presente anche la regione e la ASLA. Se non sbaglio, la ASLA si è astenuta dal dire ogni cosa, perché non aveva praticamente niente da dire e la regione non ha fatto nessuna obiezione. Questo ci ha indotto, come ha indotto il Comune di Terni, a dare l'interesse pubblico e ad andare avanti in questa operazione. Grazie per l'informazione. Tra qualche giorno vi diamo il documento, ci rispondete ufficialmente e così poi ci mettiamo a ridurre tutti insieme. Buona serata.